Perché sì? Perché non possiamo più vivere di ipocrisie, perché col bicameralismo perfetto le leggi non vengono mai approvate. Con la riforma costituzionale c'è il modo di avere un potere legislativo efficace che non deve più utilizzare i decreti legge in via d'urgenza che non sarebbero stati nemmeno pensati per questo e quindi ritengo che sia la soluzione che da tanti anni si pensava per risolvere questo grosso problema che ancora affrizza l'Italia. Ha parlato? Ha parlato? E lei? Come fa il nome? Io sono Fabiana Caroli e sono la coordinatrice del comitato Vergato DiceSì.